buona giornata amici da massimo foghetti buona giornata oggi è lunedì 21 marzo 2022 benvenuti alla rassegna stampa di fanu tv leggeremo come sempre il resto del carlino e corriere adriatico sulle pagine locali soprattutto e oggi oltre a darvi un buongiorno per quanto riguarda la giornata di oggi vi dico anche un buon inizio di stagione perché oggi inizia la primavera da poco è passato l'equinozio e quindi le ore del giorno si eguaglieranno a quelle della notte e vedere i peschi fiorire così come i pruni ci dà un'idea così di pace di tranquillità di speranza soprattutto perché queste due condizioni si verifichino anche in altre parti del mondo quindi buona primavera a tutti il calendario dei santi oggi ci propone un santo si tratta di serapione di tmuis un'eremita che visse in oriente nel quarto secolo ma oggi è il 21 marzo e io non posso non parlarvi di san benedetto infatti riprendo il detto san benedetto la rondine sotto il tetto proprio il 21 marzo perché il 21 marzo del 547 moriva san benedetto da norcia a monte cassino norcia san benedetto sono due tappe fondamentali di questo grande colosso della chiesa cattolica fratello di santa scolastica fu eremita e cenobita al tempo stesso fu autore di una delle regole di vita fondata sul lavoro e sulla preghiera che fu condivisa con lui e dopo di lui da molte persone che ci sono consacrate a cristo lui stesso è stato una pietra miliare del cristianesimo e non possiamo fare un pensiero alle cattedrali che ricordano il suo nome alla chiesa di norcia che è stata devastata dal terremoto e all'abbazia di monte cassino che è stata distrutta dall'ultima guerra e poi ricostruita due monumenti di riferimento ideale per quanto riguarda appunto l'elevazione al trascendente san benedetto da norcia e san serapione di muis li festeggiamo entrambi in questa giornata ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo che il sole questa mattina è sorto alle 6 e 10 e tramonterà alle 18 e 24 la giornata si mantiene soleggiata salvo qualche innocuo annuvolamento entro la mattinata ma soprattutto verso il sud delle marche le temperature si spingeranno per quanto riguarda le massime fino a 10 11 gradi e le minime scenderanno a 4 i 20 sono più moderati sulle coste spireranno da una tendenza di nord e nord ovest sull'interno con una tensione debole da nord est il mare e si mantiene mosso si mantiene agitato ed ora apriamo il giornale questa volta voglio aprirvi voglio iniziare dal resto del carlino facendovi vedere la prima pagina abbiamo una notizia di sport come foto notizia centrale perché la vl ha conseguito un ottimo risultato ha sbancato il varese dopo sette anni e ora corre verso la salvezza turbo vl è il titolo con cui il resto del carlino annuncia questa vittoria e poi il giornale è pieno di notizie di cronaca questa mattina vediamo qui qualche sunto in prima pagina dolore al piede saccaccia purtroppo a amore è caduta al pronto soccorso di fano e poi lite in un disco tra marche e romagna e poi l'inseguimento picchiati e derubati due ragazzi e ancora entra al circo l'armato di coltello paura tra i clienti è stato denunciato e poi parliamo del premio anti racket che è stato attribuito a nicola gratteri guardia alta contro le mafie ancora ai cappuccini a pesaro anziano rapinato nel sottopasso presi quattro ragazzini e tutti in piedi per don marco tra applausi e cori alla sister act era il compleanno è stato il compleanno del parroco del porto di pesaro vediamo in maniera più analitica queste notizie partendo da quello che è avvenuto a baia imperiale appunto tra le marche e la romagna tra pesaro e rimini lite in disco poi l'inseguimento due ventenni picchiati e derubati gli aggressori sono due coetani albanesi con i quali era nata un'accesa discussione all'interno del locale all'interno del locale fin quanto c'erano le guardie i vigilantes tutto si è mantenuto nei limiti della decenza ma una volta usciti i due sono stati raggiunti picchiati e addirittura è stata loro distrutta l'auto e poi ancora inseguiti sono andati a pronto soccorso poi ancora malmenati insomma è stato un raid veramente violento quello con il quale è stato fatto oggetto appunto questi due ragazzi ora gli autori vengono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine e poi va in ospedale mi fa male il piede ha dichiarato all'infermiera delle triage però mentre i medici la stavano curando le stavano misurando la pressione la donna si è accasciata ed è morta non c'è stata nulla da fare vittima è roberta curina di 57 anni ed è molto conosciuta perché è la moglie di vincenzo enzo ceglia titolare del ristorante pizzeria bella napoli di fano la donna non si è più ripresa nonostante i tentativi a lungo effettuati dai sanitari e si ipotizza che la causa della morte sia una trombosi venosa profonda con embolia polmonare soccorso e soccorse in strada due quindicenni un giallo all'alba due ragazzine due ragazzine minorenni che all'alba quindi al termine della notte dopo aver passato magari una notte insomma particolare diciamo così facevano baccano in strada qualcuno ha chiamato la polizia le due ragazzine pesaresi apparivano ubriache quindi in stato confusionale i carabinieri le hanno accompagnate immediatamente al pronto soccorso di pesaro per farle visitare in modo da constatare le loro condizioni psicofisiche le ragazze avrebbero raccontato diverse versioni per quanto riguarda come hanno passato la notte sarebbero state fatte salire in un'auto da una persona adulta per poi appartarsi con lui magari una delle due l'altra era scesa una versione però che non ha trovato fiducia nei confronti delle forze dell'ordine il quale hanno chiesto di proseguire con le visite ginecologiche una delle ragazze ha accettato perché ha temuto di essere stata stuprata quell'altra invece ha negato decisamente non si conoscono ancora i risultati di queste analisi comunque le indagini proseguono si cercherà di far luce quale notte che cosa hanno subito queste due ragazzine 15 anni appena l'associazione della conf commercio 50 più che riunisce gli anziani della conf commercio ha attribuito il premio anti racket al procuratore Gratteri il quale ha detto per i giovani la mafia non è una priorità una constatazione che fa riflettere si è tenuta ieri mattina la giornata dei maestri del commercio organizzata da questa associazione il premio è stato attribuito appunto a Nicola Gratteri che è procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata è un riconoscimento ai soci che hanno svolto un'attività da più di 25 anni è una iniziativa abituale che 50 e più svolge ogni anno per evidenziare come il commercio sia sempre nelle mire dei malintenzionati ma ci sono anche persone che lottano in maniera molto molto determinata per assicurare l'ordine e appunto la libertà di commercio ed ora diamo un'occhiata a questa bella pagina dove vediamo qui tante persone che fanno gli auguri a Don Marco il parroco del porto 60 anni di sacerdozio ma non mi sento ancora un pensionato ha dichiarato il sacerdote una bella festa in parrocchia per il prete del porto tra standing ovation, cori e lettere dei fedeli ti vogliamo un gran bene hanno dichiarato sei stato una grazia era stato ordinato sacerdote il 18 marzo del 1962 ed è stato parroco per tanti anni ed ora collabora con la parrocchia di Santa Maria del Porto è stato poi professore di filosofia al Terenzo Mamiani al liceo pesarese ed ancora insegna all'istituto superiore di scienze religiose Giovanni Paolo II a Pesaro anche se ho 84 anni ha dichiarato non mi sento un pensionato sono da anni cittadino Portolotto una parrocchia che mi ha dato molto appartengo a questa comunità che mi ama tanto ha ammesso, ha detto il sacerdote Assessore giudichi lei Fanesi all'ex pista go-kart ed ora siamo passati a Fano Fanesi è l'assessore vice sindaco del comune di Fano e assessore all'urbanistica e questo articolo riguarda lo stato dell'ex pista dei go-kart ne parlano i residenti e lamentano un degrado di questa pista che non è difesa poi dall'erosione del mare ma comunque viene lasciata in abbandono da tempo avrebbe dovuto essere curata per la realizzazione della strada della cantieristica che è rimasta, è un progetto che è ancora rimasto in cielo nonostante che allora ci fosse il progetto pronto ci fossero i soldi comunque non è stata mai realizzata anche perché la cantieristica fanese ha conosciuto bassi e alti, alti e bassi alterne vicende comunque la situazione è ancora così una squallida area in prossimità del mare che potrebbe essere valorizzata tantissimo ci sono avvicendati tanti progetti di valorizzazione ma non è stato fatto mai nulla nell'ex pista dei go-kart basterebbe un prato curato per migliorare la situazione e quanto hanno sollecitato i rappresentanti del comitato le brecce nell'incontro che sabato mattina hanno avuto con il vice sindaco Cristian Fanesi apriamo ora il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come qui invece si parli di agricoltura i prezzi del grano saliti prima della guerra lo afferma Francesco May che è il direttore della cooperativa agricola di Falcineto una delle cooperative più attive più numerose del territorio della valle metaurese l'aumento dei costi per noi rappresenta un'incognita sì, sono aumentati i ricavi per quanto riguarda la vendita del grano ma sono aumentati anche i costi e adesso succede questo la semina è avvenuta nel mese di ottobre e novembre dove i costi erano già lievitati ma se ora i prezzi di vendita che si effettueranno nel mese prossimo nell'autunno prossimo diciamo così non si manterranno agli attuali livelli questa discrepanza incederà in modo drammatico sulla nostra agricoltura e il presidente della grande cooperativa agricola svela le dinamiche del mercato perché la farina è aumentata perché la farina non si trova nei supermercati perché i produttori finalmente dopo anni e anni di quasi rimessa nella coltivazione dei campi ora hanno un reddito maggiore ma è veramente un reddito maggiore oppure anche le spese annullano quanto le spese del carburante le spese della materia prima le spese dei concimi insomma annullano poi questo rialzo dei prezzi che c'è stato insomma una attenta disamina che Francesco Mei ha fatto della situazione della produzione del grano e delle farine per la festa per la festa dei papà si sono riuniti gli ucraini che sono nel nostro territorio la festa dei papà i loro papà sono al fronte i loro papà combattono la guerra i loro papà sono in pericolo gli uomini infatti in Ucraina sono rimasti a difendere la loro terra e quindi la festa del papà che si è celebrata il 19 marzo scorso sabato ha avuto un significato particolare per i profughi che sono arrivati nel nostro territorio si sono ritrovati all'oratorio Acli con i ragazzi dell'istituto Don Orione una festa dedicata a tutti i papà in modo particolare quelli che sono rimasti in Ucraina in guerra e nei locali di via 4 novembre sabato si è trascorso un pomeriggio distensivo di socialità di solidarietà per la piccola comunità di circa 20 profughi appunto accolti dal Don Orione e parliamo di una iniziativa che in questo momento insomma così ci pare fuori luogo in realtà in realtà l'economia locale l'economia nazionale comincia a risentire parecchio di quello che sta accadendo in l'est dell'Europa per la Fano dei Cesari si lavora l'apertura del teatro romano sarebbe veramente un'occasione molto bella se in concomitanza di questa manifestazione che si svolgerà in tre giorni dal 15 al 17 luglio prossimo si aprisse il teatro romano e si è riunito in questi giorni il comitato organizzativo della Fano dei Cesari la manifestazione che per la seconda volta appare nel programma delle anteprime del comune di Fano però priva della corsa delle bighe dobbiamo accontentarci della corsa delle bighette attenzione non è un diminutivo che fa perdere di valore alla manifestazione stessa perché la corsa delle bighette con il coinvolgimento dei bambini il coinvolgimento dei genitori è apparsa una iniziativa molto importante che ha avuto molto successo e ha adunato molte persone al centro della città è passata da Sant'Orso al Pincio ed ora è diventata a pieno diritto una manifestazione cittadina ma è solo questo che al momento si sa per quanto si realizzerà tra il 15 e il 17 luglio tutto il resto è ancora un mistero insomma ora non bastano più gli accampamenti non bastano più i convegni che si fanno in queste occasioni ci vuole qualcosa di più che sostituisca la corsa delle bighe che era l'evento principe della Fano dei Cesari insomma un incipit un input che il consigliere comunale Piero Valori che è poi anche presidente del comitato dei genitori di Sant'Orso che ha ideato la corsa delle bighette la Fano dei Cesarini promuove perché questa cosa assuma il valore che aveva un tempo giriamo ancora la pagina e vediamo come Apergola scatta oggi la seconda settimana di votazione per il concorso Il Borgo dei Borghi sostenuto anche dalla cantante Noemi che fa un endorsement per Pergola la città dei nonni la cantante infatti è tra i personaggi che appoggiano la candidatura della città dei bronzi vediamo anche la pagina di Senigallia L'ira dei sindaci su Saltamartini ma che il PD risolva i problemi ebbene i sindaci della Vallata si dichiarano indignati dalle esternazioni dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini a cui chiederanno un incontro per parlare dei servizi che mancano nel territorio che sono carenti l'assessore Saltamartini riconoscendo i problemi li ha accusati però di lamentarsi solo perché sono del Partito Democratico non perché avessero delle ragioni contingenti ebbè a chiedere la giusta attenzione nelle ultime settimane sono stati sindaci civici in modo particolare per Ticaroli e Pancotti rispettivamente alla guida di Arcevia e di Ostra Vetere sono problemi contingenti veramente lamentati dalle persone sofferti dalle persone e non una questione politica hanno detto gli esponenti del Partito Democratico sulla pagina regionale il Corriere Adriatico parla ancora della inchiesta sul deposito dei rifiuti nella bassa Marche da Brescia a Marcianise così i rifiuti pericolosi arrivavano fino ad Ascoli in sette anni la società Geta SRL avrebbe smaltito gli scarti di aziende del Nord e del Casertano dal Nord al Sud d'Italia venivano nel centro per essere stoccati ebbene sono rifiuti che venivano depositati nella discarica senza una giusta registrazione senza il giusto rilievo ed ora la magistratura e gli inquirenti indagano per attribuire le giuste responsabilità di questo reato nel dossier della procura la società avrebbe incassato tra i 100 e i 120 euro a tonnellata alterrando i registri e attribuendo diversi codici di classificazione invece di quelli reali dall'eco carichi inquinanti sopra i limiti di legge addirittura e poi vediamo l'accoglienza dei profughi sono 700 i bambini che sono nella nostra regione si è messa in moto a livello regionale la macchina dell'accoglienza l'asur sta provvedendo al controllo anti-covid su 900 ucraini in 42 sono risultati positivi l'assessore a saltamartini sostegno e misure sanitarie devono andare di pari passo ha dichiarato e ancora per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi vediamo la pagina di pesaro per ospitare queste persone che partono che fuggono dalla guerra sono disponibili sei alberghi c'è stato un accordo con la Feder Consumatori e l'Apa altre strutture potranno poi aggiungersi da metà giugno in poi però si defila l'hotel Elvezia che aveva già attivato una iniziativa per conto proprio questa non è solidarietà ha dichiarato Andrea Verdi titolare appunto di questo albergo ma sulla idoneità l'ultima parola è del prefetto penuria lavoratori stagionali ne manca ancora più del 40% per gli albergatori il problema personale si tentano le offerte sui social bene si dice che c'è molta disoccupazione però quando ci sono le offerte di lavoro ahimè purtroppo sempre part time sempre a livello stagionale ebbene però queste rimangono in gran parte in evase quindi c'è una discrepanza da considerare da vedere perché esiste e soprattutto da rimediare le notizie di cronaca prima l'inseguimento poi le botte e la rapina abbiamo visto questo articolo che riguarda lo scontro violento tra due albanesi e due ventenni di Rimini con tanto di fuga e rincorsa e poi questo episodio che è particolare perché autori sono stati dei ragazzini al di sotto dei 14 anni pensate piccolissimi da terza media hanno imbrattato la chiesa di Villa San Martino con il gel poi hanno rubato anche le offerte hanno cosparso panche e pavimento con il disinfettante appiccicoso vicino all'altare sono stati trovati trovati addirittura resti falliti di tentativi di appiccicare dei fuochi quindi di innescare un incendio in azione ragazzini under 14 hanno alzato apposta passando dal vandalismo ai danni del parco del quartiere alla chiesa un gruppo formato da bambini nessuno di loro dicevo ha più di 14 anni una situazione veramente da riflettere insomma da considerare ma soprattutto da agire e poi vediamo due articoli uno per quanto riguarda Vallefoglia e uno per quanto riguarda Urbino che si interessano di ambiente biocampo per amare la natura tulipani e laboratori per i bimbi a bottega 40.000 fiori che raccoglieranno i clienti iniziative di agricoltura sociale il giardino dei colori di bottega di Vallefoglia quest'anno ospiterà addirittura 40.000 tulipani immergendosi completamente in un'atmosfera tutta olandese con un colpo d'occhio e di un'atmosfera veramente eccezionale e invece per quanto riguarda Urbino si parla di transizione ecologica e digitale per le imprese agricole e sostenibili un percorso per universitari proposto da rete rurale nazionale in quattro fasi si chiama Rural Wars il percorso formativo per studenti universitari promossi da questa rete nazionale con il supporto del consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'economia agraria una occasione anche per individuare sbocchi di lavoro a questo punto abbiamo concluso le notizie di cronaca e possiamo guardare un attimo anche lo sport purtroppo non è andata bene con la prima della classifica per la vis il Modena ha imposto un sonoro 3 a 0 ai biancorossi la vis sconfitta non solo sul campo in titolo oggi il resto è il carlino perché la sconfitta sul campo si accosta la sconfitta anche per quanto riguarda gli spettatori i tifosi che sono saliti sugli spalti desolante infatti la quota di pubblico pesarese sugli spalti massiccia d'altra parte la presenza degli emiliani unica nota positiva il rientro di De Respinis sul Corriere Adriatico invece si intitola visse prova di coraggio ha tenuto testa al Modena pur perdendo con una prestazione convincente nonostante lo 0-3 finale un titolo piuttosto buono che corrie dall'articolo di Emanuele Lucarini domenica a Carrara sarà uno scontro diretto per i play-off è qui che si deve tornare a fare punti bisogna dimenticare questa sconfitta invece guardare avanti con fiducia e con determinazione Banchini può recuperare De Respinis in attacco dopo l'incoraggiante spezzone finale di sabato il Fano il Fano ha molto da recuperare il Fano nei bassi fondi della classifica ancora a Naspa per risalire ha dieci tappe per tentare la scalata più dura tra play-out e salvezza diretta nonostante le scelte obbligate di Catalano a livello di Under invece per quanto riguarda il resto del Carlino per il Fano si guarda dal Tolentino il Vasto Girardi resta a 33 ebbene un favore che ha fatto il Tolentino perché il Tolentino è salito in terza posizione in classifica e ha arrestato il Vasto Girardi che è a 33 punti il Tolentino è a 41 33 punti poco più su del Fano Calcio che ne ha 27 e quindi fermando il Vasto Girardi insomma ha fatto un regalo all'Alma ha fatto un regalo ai Granata e quindi questi sperano ancora nella salvezza ebbene era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e vi ricordo le notizie del giorno su Occhio la notizia il ETG di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie.